andiamo in scaldamento in scaldamento in scaldamento in scaldamento in scaldamento la riscaldamento si preoccupi sono i Ah, perchè tu questa è scattata, hai fatto una fotografia e l'ha messo in modo da un video Ora, ora ci sono colori da foto, ma io se devo vedere qua non devo avere riferimento reale